Ciao da Apsim, è uscito Pogmentary, il documentario su Paul Pogba, su Prime Video, che sono 5 episodi da circa mezz'ora l'uno, in francese con sottotitoli, e non l'ho guardato, e non lo guarderò, e non ho nessuna intenzione di guardarlo, non ho nessuna intenzione, perché personalmente Pogba, meno lo vedo e meno lo sento parlare, meglio sto. Sarà un errore mio, esagererò, però questa è la mia opinione, non è che dobbiamo essere per forza tutti contenti, entusiasti, innamorati di Paul Pogba, e poi attenzioni anche con l'entusiasmo, perché anche l'anno scorso quando è tornato Allegri, anche quelli che adesso sono stufi, inizialmente erano stati trascinati proprio dall'entusiasmo, e vive, è tornato Allegri, dai che adesso vinciamo lo scudetto, ma di che vi lamentate, e poi si sono visti i risultati. Non è che è automatica la cosa, però dico semplicemente cauti, cauti con l'entusiasmo, e cerchiamo anche di capire se il ritorno di Pogba, perché questo documentario comunque lo certifica, è un qualcosa di positivo o di negativo per la Juventus. Diciamo non in senso assoluto, perché nulla è totalmente positivo o totalmente negativo, ci sono sempre delle sfumature, ecco in questo caso però direi, almeno dal mio punto di vista, le sfumature sono tendenzialmente nere, tendenzialmente negative. Intanto che cosa è venuto fuori un po' da questo documentario, perché poi non ho intenzione di guardarlo, e poi vi dico che cosa mi aspetto, anzi pretendo da Pogba in questa prossima stagione, Viste le premesse, visto lo stipendio, vista tutta la narrativa. È venuto fuori di questo contratto che gli era stato offerto o non offerto dal Manchester United l'anno scorso, luglio 2021, come ultimo rinnovo, come strategia, anzi di rinnovo probabilmente per andare oltre il 2022. E lì abbiamo questa telefonata al compianto minoraio, mentre Pogba è a Miami in una Rolls Royce. A Miami in una Rolls Royce, parla al telefono e dice, eh ma questa è un'offerta? Eh ma questi mi vogliono trattenere? E mi fanno quest'offerta che io ritengo nulla? Cioè è come se non mi avessero offerto nulla, mi offrono questo? Cioè questa è l'immagine di Pogba evidentemente. Poi al di là di tutto, no, che giustamente ci sono anche gli aspetti positivi che devono essere mostrati, è un documentario su di lui, mica possono dire che è brutto, cattivo, antipatico, e non sto dicendo che lo sia. È chiaro che te lo dipingono come un grandissimo, però in che modo viene poi mostrato? Anche per quella che è la sua realtà, il lusso, lo sfarzo, smodato, sbattuto in faccia, veramente quasi come se fosse per sbeffeggiare il pubblico. Lusso, sfarzo assoluto. Questo è Pogba, cose d'oro, accessori, abbigliamento alla moda per fare poi shooting fotografici, vacanze, Rolls Royce. Per carità, ognuno spende i suoi soldi come vuole, ma noi dovremmo affezionarci ad un ragazzo che è cresciuto a Torino e quindi il ristoratore, il barbiere, il negoziante, l'amico, questo e quell'altro, che si tratta in quel modo un'offerta che gli è venuta da un club che dice di amare, e lo dice anche nella serie, resta comunque nel mio cuore, mentre stai in una Rolls Royce, cioè capite che è tutta una questione di soldi, non so come, e mi sembra evidente, è tutta una questione di soldi. Se tu ami un club e quel club per sue necessità, per sue valutazioni, per sue valutazioni anche di programmazione sportiva, perché tu nel frattempo sei invecchiato, perché tu nel frattempo non stai giocando all'altezza, decide di offirti un contratto al ribasso, chi sei tu per dire, ammesso che parliamo di questo, chi sei tu per dire che schifo, questa è un'offerta nulla, ma non ho mai visto niente del genere, questa mancanza di rispetto. E poi dobbiamo sentire che viene esaltato Pogba dagli stessi tifosi, da alcuni degli stessi tifosi, che hanno trattato malissimo Di Bala, il quale però l'offerta della Juve l'aveva accettata. E la dimostrazione, la dimostrazione l'ho già detto, che Di Bala avrebbe accettato l'offerta che non gli è stata presentata, poi in primavera, di circa 6 milioni, l'abbiamo dal fatto che la sta accettando all'Inter. Anzi, addirittura abbiamo letto e scoperto che 6 milioni li prendeva pure alla Juve, perché a 7 ci arrivava con i bonus, la sua base fissa erano 6. E perché, ripeto, Di Bala dovrebbe accettare 6 milioni all'Inter quando è free agent e quindi può accordarsi con chi vuole e qualcuno che gli dà più soldi esiste per forza, perché magari può abbassare il suo livello di competizione andandosene, che ne so, in MLS, tanto per fare un esempio assurdo, o in Cina, e invece alla Juve avrebbe rifiutato la stessa offerta. Capite che non sta in piedi la cosa? E quindi Di Bala, brutto, cattivo, irrispettoso nei confronti della società, che il contratto gliel'aveva offerto, lui aveva accettato, poi ha ritirato l'offerta e non gliel'ha più presentata, parole di arrivabene, mentre Pogba, grande, grande polpo, grande Pogba, che ama la Juve, ha fatto una scelta di cuore. Cioè, lo capite? Noi vediamo Pogba, a nudo, che nel momento in cui il Manchester United, che lui dice di amare, gli offre un contratto, schifato, dice questa è la vostra offerta, veramente vergognoso. Legittimato anche a fare questo, assolutamente legittimato, però uno che si comporta così è nel pieno diritto, perché fa le sue scelte professionali, ma non può essere esaltato per questo comportamento come se fosse uno che fa le scelte di cuore. Come se fosse uno che fa le scelte di cuore. Eh, però ti sbagli, Avsim, perché Pogba ha rifiutato il Manchester City. E perché ha rifiutato il Manchester City? Perché probabilmente, al di là dei soldi, lì non avrebbe giocato. E non avrebbe giocato titolare come giocherà alla Juve. Quale società oggi avrebbe dato, darebbe il posto da titolare a Pogba? Tranne quelle che non possono permetterselo, chiaramente. Cioè, immagino che in una squadra di metà classifica, Pogba sarebbe titolarissimo, ma non possono permetterselo. Le società che possono permettersi lo stipendio di Pogba, più le commissioni, chi gli darebbe il posto da titolare? Andiamo a vedere un attimo il centrocampo delle varie squadre europee che potrebbero permettersi Pogba. Mi trovate una squadra dove Pogba sarebbe titolare fisso assoluto? Neanche il Manchester United, che poteva permetterselo il rinnovo, hanno fatto valutazioni diverse. E ancora, in questi giorni, stiamo leggendo, chi lì sta andando a cercare, continuamente, reazioni felici, positive, dei tifosi del Manchester United, che non vedevano l'ora che Pogba se ne andasse. E che questo contenuto, adesso, di Prime Video, non possono che, da una parte, ecco, farli indignare, da un'altra parte, non possono che apprezzarlo, nel momento in cui vedono, che lui, cioè, ha chiuso definitivo, e se ne va da un'altra parte, anche se ormai è chiaro, e si sono anche salutati, c'è stata l'ufficialità, del mancato rinnovo, e dell'addio di Pogba al Manchester United, giorni fa. Però, voglio dire, hanno un'ulteriore occasione, di esultare, perché se ne è andato. E perché il Manchester United, che ha fatto una stagione peggiore, di quella della Juventus, può permettersi di scaricare Pogba, e andare a puntare, anche se non so se riusciranno a prenderlo, su Frankie de Jong, su Frankie de Jong, mentre la Juve deve prendere Pogba, come dio sceso in terra, oro colato, qualche cosa di imprescindibile. Questo io non capisco. Cioè, noi siamo più mediocri del Manchester United, che noi siamo in Champions e loro no? Di questo stiamo parlando? Siamo a un livello superiore, come competizione per la prossima stagione, rispetto al Manchester United, però noi dobbiamo prendere Pogba, come oro colato, e loro invece l'hanno potuto scaricare, come un rifiuto, trattandolo in questo modo? E dovrebbe andare tutto bene? Poi ripeto, sfarzo, lusso, proprio smodato, sbattuto in faccia, basta seguire anche Pogba, su Instagram, lui l'accompagna, non so se moglie, stessa cosa, solo sfarzo e lusso. Quando queste cose le fa, Di Bala anche lì, ma non perché Di Bala, perché siamo molto vicini, perché Di Bala lascia la Juve e va all'Inter, mentre Pogba ritorna alla Juve, e i due stanno anche in vacanza insieme, sono in vacanza insieme. A me non piace neanche Di Bala, attenzione, non mi piace neanche Di Bala con Oriana, con il loro lusso e il loro sfarzo smodati, che non comunicano niente, perché io ritengo che sui social, le persone, dovrebbero, si mettono in vetrina, perché così funziona, ma dovrebbero anche comunicare qualche cosa. Vedere Di Bala con un abbigliamento, diciamo, contemporaneo, moderno, come stile, con questi occhiali da sole, in posa, dico, ma che cosa, cioè, non mi interessa nulla, per me non vale nulla, quindi vi dico, questa è la mia personale posizione soggettiva, e lo dico a Pogba come lo dico a Di Bala, mentre c'è chi dice, Di Bala che schifo, guardate, sta con la fidanzata, pensa solo alle donne, pensa solo alla fidanzata, pensa solo ai soldi, pensa solo alle vacanze, e poi da quest'altra parte, Pogba, che bello, che bravo, la moglie, la compagna, le vacanze, gli occhiali da sole, i gioielli e quant'altro, vi prego, siamo purtroppo a questo livello, di incoerenza e di ipocrisia. Venendo un po' più al campo, e chiudiamo, perché appunto di questo poi volevo parlarvi nel giorno in cui è praticamente ufficiale, che Pogba torna alla Juventus in attesa dell'annuncio che arriverà, almeno nel momento in cui sono registrando, non è uscito nessun annuncio, ma non credo proprio che uscirà oggi, arriverà a luglio, perché poi questioni fiscali, burocratiche, bisogna sempre capire, bisogna sempre capire di che cosa realmente si tratta, e io ho il timore che si stia facendo un'operazione che è un passo più lungo della gamba, nel senso che né Pogba in questo momento, né la Juventus possono celebrare questo matrimonio a livello tecnico, e quindi devono rimandare a luglio, segno che evidentemente non era proprio così facile, ed infatti stiamo parlando di 8 milioni netti probabilmente, sì con il decreto crescita, ma 8 milioni netti, mentre poi a febbraio, quando era stato appena preso Vlaovic, c'erano i tifosi ben pensanti che vi dicevano, ma Di Bala non può pretendere 7 milioni, 8 milioni, perché il nuovo tetto salariale della Juve è 7 milioni, e adesso che fine ha fatto il tetto salariale? Ma adesso quelli lì vi diranno, eh però Pogba è il decreto crescita, quindi costa meno di Vlaovic, quindi si può fare 8 milioni, che vuol dire? Non c'entra assolutamente nulla, perché tu stai creando delle gerarchie nello spogliatoio, mi stai dicendo che il giocatore più importante è Di Maria, al secondo posto viene Pogba, e poi c'è De Ligt e poi Vlaovic e gli altri, e questa sarebbe la programmazione, questo secondo voi è un progetto sportivo serio, al primo posto Di Maria che non se ne frega niente di noi, al secondo posto Pogba che ci ha schifati nel 2016, e se ne è andato prendendoci in giro, anno dopo anno torno alla Juve, torno di qua, torno di là, e poi ogni volta rinnovava, poi abbiamo De Ligt, che poverino purtroppo se ne andrà pure, molto presto, se non quest'estate, l'estate prossima, e poi abbiamo Vlaovic, mister tetto salariale, che già non esiste più, già non esiste più il tetto salariale, da 7 siamo passati a 8 e 9, complimenti, benissimo, anche complimenti ad Arrivabene, per la sostenibilità, ma ripeto, per l'ipocrisia, che abbiamo potuto, che ci hanno testimoniato, e quindi veniamo al campo, perché, Pogba, nelle ultime 6 stagioni, con il Manchester United, ha avuto 12 infortuni, di cui 7 muscolari, 12 infortuni, di cui 7 muscolari, il che significa, chiaramente, 2 infortuni in media a stagione, di cui 1 è qualcosa muscolare, e ha saltato 89 partite, Pogba, in 6 anni, ha saltato 89 partite, il Manchester United, in 6 anni, ha disputato 344 partite ufficiali, 344, 89 diviso 344 per 100, fa 26, quindi Pogba ha saltato, per solo infortunio, né per avvicendamento tecnico, riposo, squalifiche, no, per il solo caso, dell'infortunio, il 26% delle partite, del Manchester United, nelle ultime 6 stagioni, e questo, non aveva ancora fatto 30 anni, li farà, li farà l'anno prossimo, ne ha 29, quindi, non è che era già, sul viale del tramonto, era già in calo, ecco, poi anche questo fatto, che abbiamo sentito sempre, nel Pogmentary, Raiola che dice, Pogba in Francia, nella Nazionale, sei quello che eri alla Juve, nel Manchester United, sei diverso, questo non va bene, io sono la star, ma la star, non, non ci, non te lo costruisci, ti devono riconoscere come una star, perché, la tua immagine, è il tuo valore, e quello che fai sul campo, è la tua immagine, quindi puoi determinare, il tuo valore, queste altre parole di Pogba, con il Matuidi, sì, e infatti, quello che fai sul campo, quello che fa sul campo, perché a parte gli infortuni, Pogba ha iniziato, nel Manchester United, con due, tre stagioni di alto livello, 16, 17, 51 partite, 51 presenze, 9 gole, 6 assist, che neanche sono tanti, in 4300 minuti, 17, 18, 37 presenze, 6 gole, 12 assist, in 2900 minuti, 18, 19, 47 presenze, 16 gole, 11 assist, in circa 4000 minuti, cioè, quattro stagioni fa, e poi, fine, perché, 19, 20, 22 presenze, un gol, 4 assist, 1600 minuti, con gli infortuni, 20, 21, 41 presenze, in 2800 minuti, ma, 6 gole, 9 assist, scorsa stagione, anzi, stagione appena finita, 27 presenze, un gol, e 9 assist, in 1800 minuti, 27 presenze, un gol, 9 assist, in 1800 minuti, con pure gli infortuni, allora, chi stiamo andando a prendere? Un giocatore, che ha saltato il 26% delle partite, quindi, immaginiamo, che purtroppo, potrà saltare, dal 20 al 30%, di partite, per infortuni, o anche in questa prossima stagione, speriamo di no, ma, quelle sono le garanzie fisiche, e lo stiamo andando a comprare, lo abbiamo comprato, che lui era ancora infortunato, cioè, è infortunato tuttora, capite, è infortunato tuttora, lo compriamo infortunato, sperando che rientri bene, presto, al meglio, per l'inizio della preparazione, ma non ne abbiamo garanzia, non ne abbiamo garanzia, non sappiamo quanti infortuni si farà, e con un rendimento, scarno, è un rendimento, nulla di esaltante, come gole assist, perché, se stiamo dicendo, ad Allegri, e alla Juve serve un centrocampista, che sappia fare gol, perché Allegri non è in grado, di far fare i gol ai centrocampisti, ma neanche agli attaccanti, figuriamoci, e dove sono i gol di Pogba, in queste ultime stagioni, sono stati pochi, Allora, anche se è capitato raramente, quello che, ve lo dico qui, visto che siamo, praticamente all'ufficialità, pretendo, da tifoso della Juventus, da parte di Pogba, innanzitutto serietà, innanzitutto serietà, niente manfrine, niente cose giocose, scherzose, come se lui fosse, ecco appunto, il re, come se fosse il re della Juventus, a cui tutto è dovuto, che ha credito infinito, quindi serietà, testa bassa e lavorare innanzitutto, pochissime parole, quindi sui social, li spegnesse un attimo, li mettesse un po' da parte, parlasse dopo le partite, dopo che ha fatto cose significative, non prima, non durante, e basta anche con tutta questa, narrativa sfarzosa, di alta moda e quant'altro, perché deve fare il calciatore, perché Dybala doveva fare il calciatore, perché la Juve deve prendere, i monaci di clausura, le monache di clausura, che devono essere proprio inquadrati, però poi Pogba può fare tutto quello che vuole, quindi anzitutto serietà, rispetto, silenzio, lavoro, impegno, non lo voglio vedere neanche mezza volta, che cammina in campo, neanche mezza volta, che cammina e gigioneggia in campo, che passeggia, quindi impegno, e poi 10 gol e 10 assist, come minimo, come minimo, deve fare 10 gol e 10 assist, se non riesce a fare doppia cifra su entrambi, deve caricare da uno dei due, quindi in totale me ne deve fare 20, in totale deve fare 20, quindi o 15 e 5, o 13 e 7, o 7 e 13, 10 e 10, come preferisce, ma deve fare 20 tra gol e assist, altrimenti non si giustifica, tutto quello che si sta dicendo, non si giustifica lo stipendio, non si giustifica tutto questo sfarzo, tutta questa costruzione mirabolante, del grande ritorno del grande Paul Pogba, per quanto mi riguarda, lo dico adesso, che siamo a metà giugno, fine giugno, e quindi la stagione è lontana, parlo prima, Pogba deve fare 10, anzi 20 tra gol e assist, 10 gol e 10 assist, sarebbe proprio la quota minimo, minimo, che si deve fermare a 20, minimo nel corso di tutta la stagione, tra tutte le competizioni, cercando di infortunarsi il meno possibile, e aggiungendosi impegno, cioè lui non è arrivato, non è già, non si deve se dire già arrivato, perché gli hanno dato il contratto che voleva, è tornato a casa, adesso dirà tutta quanta la retorica, e quindi è fatta, no, deve dimostrare, deve dimostrare da zero, per quanto mi riguarda, zero alibi e zero sconti, zero sconti, deve dimostrare da zero, alla prima partita da sei risicato, lo distruggo, ve lo dico adesso, così poi non vi arrabbiate, lo distruggo, alla prima partita da sei risicato, lo distruggo, se fa una partita addirittura insufficiente, o penosa, non veniteci proprio sul mio canale, non ci venite proprio sul mio canale, vi avviso adesso, non ci venite, perché poi ci rimanete male, e vi nervosite, quindi non venite poi arrabbiati, perché ve lo dico adesso, ve lo dico adesso, alla prima partita insufficiente, non ci venite proprio, con una sufficienza risicata, lo distruggo, se non fa dieci con le dieci assi, la stessa cosa, se lo vedo gigioneggiare, passeggiare, per il campo, la stessa cosa, quindi vi avviso, e potete tranquillamente evitare, i miei video su Pogba, se preferite, se vi dà fastidio, ma credo, credo, che nel corso della stagione, poi vi, ci sarà un ravvedimento, perché ci si renderà conto, che purtroppo, il livello è quello lì, e spero di sbagliarmi, ma temo che, sarà proprio quello, che farà Pogba, cioè, scarso impegno, passeggiare, prendere un sei risicato, e dire che grande partita, ha fatto Pogba, magari aggiungere qualche giochetto, mentre perde il pallone, però ha fatto il colpo di tacco, ecco, quindi poca sostanza, e tanto sfarzo, perché questo è Pogba, poca sostanza, e tanto sfarzo, e quindi poi magari, ci si renderà conto, qualcuno, come è successo con Allegri, si sveglierà, e dirà, ah, effettivamente, non era questo grande colpo, ma ripeto, spero di sbagliarmi. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito, nei commenti su Pogmentary, ripeto, a me non interessa, perché non ho intenzione, di guardarlo, poi le cose Amazon, dopo che, dopo All or Nothing Juventus, le cose Amazon che riguardano la Juve, proprio, preferisco veramente, non toccare, non sfiorarle neppure, perché non possono, sicuramente non possono piacermi, fatemi sapere però nei commenti, se vi è piaciuto, insomma, parlatene se vi va, e mettete like a questo video, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi contenuti, se ancora non l'avete fatto, e abbonatevi a questo canale, a partire da 99 centesimi al mese, per sfruttare tanti vantaggi, tra cui l'accesso alle chat, riservate sul mio server Discord, con tanti argomenti di cui parlare, e la programmazione quotidiana, con orari e argomenti, dei nuovi video in uscita, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!